Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi vediamo come fare la configurazione del Mac Mini M1. Per effettuare la configurazione il primo passaggio che dobbiamo fare è quello di andare a scegliere la lingua. Ovviamente per la configurazione sarà necessario associare una tastiera al nostro Mac Mini. Per andarla ad associare ci basterà digitare il codice che ci viene richiesto e digitare invio. Prima di andare a vedere come fare la configurazione vi chiedo come al solito di mettere un mi piace sotto al video, iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Qua sotto in descrizione trovate il link per acquistare il Mac Mini e trovate anche il link al mio canale Telegram dove vado a pubblicare offerte e buoni sconto per acquistare online. Selezioniamo quindi il nostro stato, Italia, eventualmente accessibilità, quindi effettuiamo il collegamento a una rete wifi. Andiamo a dare la conferma su dati e privacy e poi abbiamo la possibilità tramite l'assistenza di migrazione di effettuare una migrazione ad esempio da un precedente backup di Time Machine o di fare una configurazione nuova. In questo caso per il Mac Mini M1 vi consiglio di effettuare un'installazione nuova, quindi andremo a inserire il nostro ID Apple, se non ne abbiamo già uno lo potremo andare a creare, altrimenti possiamo andare a utilizzare quello che usiamo già ad esempio sull'iPhone o sull'iPad. Quindi andiamo a creare un account utente per il computer che poi volendo sarà possibile andare a disabilitare dalle impostazioni come vedremo più avanti. Andando a creare questo account utente sarà possibile poi avere un inserimento di password quando il computer si andrà a bloccare. Una volta effettuato questo passaggio il computer andrà a configurare iCloud e poi ci darà ancora la possibilità di scegliere eventualmente di attivare il servizio dove per rintracciare eventualmente il computer se ci viene rubato. Andare a configurare Siri o selezionare l'aspetto chiaro o scuro per quanto riguarda l'aspetto del sistema operativo. Tutte funzioni che poi potremo andare anche a modificare e configurare in un secondo momento. Una volta che abbiamo completato il nostro computer Mac Mini è pronto per essere utilizzato. Andiamo ad esempio a fare un test con Safari andando a navigare su un sito. Una volta terminata la configurazione possiamo passare alle impostazioni di base. La prima cosa che andiamo a fare è cliccando sulla mail a preferenze di sistema generale e andare volendo a modificare il tema del nostro computer da chiaro a scuro o automatico che si andrà adattare in modo automatico in base all'orario della giornata. Altra cosa che vi consiglio di fare invece da Finder preferenze abbiamo la possibilità di selezionare quali dischi possiamo vedere direttamente sulla scrivania. Io preferisco vederli sempre tutti poi dalla linguetta avanzate che troviamo al fondo possiamo scegliere di far visualizzare o meno l'estensione del file quindi ad esempio tutti i file avranno magari .pdf .word e sempre da questa schermata potremo scegliere dove far cercare quando effettuiamo un cerca. Mentre invece per quanto riguarda la linguetta barra laterale ci permetterà di andare a selezionare quali sono le cose che vorremmo visualizzare nella barra laterale. Fatti questi passaggi possiamo passare all'installazione delle applicazioni. Fatemi sapere con un commento qua sotto se può essere di vostro interesse andare a creare un video sulle applicazioni che utilizzo sul mio Mac Mini. Come al solito se non siete ancora iscritti iscrivetevi cliccando sulla campanella per ricevere notifiche a tutti i video che andiamo a pubblicare su Recensioni per Scegliere. Mettete un mi piace o non mi piace sotto questo video. Per questo video dedicato alla prima configurazione del Mac Mini M1 è tutto. Noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico. Grazie a tutti.